Il virtuosismo strumentale si può sviluppare su due fronti, quello tecnico, assoluto, e quello poetico, funzionale, a un idioma musicale. Spesso le due cose si incontrano. Penso Oscar Peterson, che è stato uno dei più grandi virtuosi di pianoforte, in assoluto, non pianisti jazz, proprio pianisti. Però tutta la sua tecnica era sempre immersa nel fraseggio, nel timing, nell'armonia perfetta, nello swing travolgente. Ci sono altri pianisti, penso a due nostri musicisti italiani con i quali ho suonato, con uno ho suonato tantissimi anni, Nando De Luca. Nando De Luca, che è stato anche un compositore, l'arrangiatore per tanti anni, negli anni 70, di Enzo Iannacci, di Celentano. Ecco, Nando De Luca aveva un milionesimo della tecnica di Oscar Peterson, ma la sua tecnica pianistica era perfetta per sviluppare swing, timing, fraseggio, eccetera. Un altro pianista che di tecnica ne aveva ancora meno di Nando De Luca è stato Romano Mussolini. Romano Mussolini che non avrebbe potuto competere con Oscar Peterson, l'avrebbe annientato dopo due misure. Eppure Romano Mussolini era pregno di swing, feel, di blues, feeling. Quando si suonava con lui era una goduria. Ecco, la contraposizione tra Buddy Rich e un altro batterista, non so, Charlie Watts, Ringo Starr, Carmine Apice, che poi io pronuncio Apice, non so neanche come si pronuncia, mi piace chiamarlo Apice. Ecco, questi tre nel loro mondo sono stati tre giganti, suonavano quello che dovevano suonare. Poi magari a casa studiavano sei ore al giorno sul pad, però quando erano sul palco veniva fuori la musica, il groove, il timing, lo swing. Anche nel rock c'è swing, ovviamente. La condizione ottimale secondo me è quella di avere la tecnica di Buddy Rich e l'intelligenza e il gusto di batteristi che di tecnica ne hanno molto meno. Associare le due cose e proporsi, dosando quello che serve nel frangente giusto. Studiare, studiare tecnica è fondamentale, più ne abbiamo meglio è. Poi è il cervello che deve ragionare e non le mani e i piedi. Allora la musica viene fuori, altrimenti rimane circo equestre.